Sesta edizione di Didacta Italia qui a Firenze, un successo di pubblico, di numeri, di risposta di docenti e dirigenti scolastici, in dire come sempre è un ruolo di partner scientifico per Didacta, quindi è l'istituto che rappresento ad occuparsi di tutto il programma scientifico, di formazione, quindi delle proposte di workshop, seminari, convegni e quest'anno abbiamo solo noi come indire messo in piedi 130 eventi e la cosa che ci dà molta soddisfazione è che quasi tutti sono andati sold out, alcuni veramente in pochissime ore, quindi questo ci dice due cose, la prima che il mondo della scuola è un mondo dinamico e che il personale della scuola ha voglia, ha bisogno di approfondire, di formarsi, di confrontarsi e due che siamo in un momento di trasformazione del modello scolastico anche per effetto dei finanziamenti importanti del PNRR e delle riforme abilitanti che stanno insieme a questi finanziamenti e quindi c'è la consapevolezza che le scuole hanno a disposizione la possibilità di fare investimenti ma che non basta spendere per spendere e questa occasione è irripetibile e quindi le scuole sanno che hanno la responsabilità di scegliere gli strumenti, le tecnologie ma insieme ad una consapevolezza, ad una formazione su come possono essere usate per trasformare la didattica. Quindi questo è quello che abbiamo l'ambizione di fare noi, come indire, accompagnare le scuole e anche il decisore politico, quindi il ministero e le regioni in questo percorso. Comunque insomma sono giornate in cui si respira la voglia di pensare alla scuola e questa manifestazione a cui siamo veramente tutti molto affezionati, di cui siamo molto orgogliosi, dà proprio l'idea di qualcosa costruito per la scuola e con la scuola, quindi insomma siamo veramente contenti di come sta andando.